La discussione per arrivare a una soluzione del problema delle vacche sacre che sta interessando alcuni territori della Piana di Gioia Tauro non si ferma. Il grido d'allarme proveniente quotidianamente dai cittadini interessati è stato recepito questa volta dall'Associazione Città degli Olivi, che subito dopo l'Assemblea, a cui hanno partecipato quasi tutti i comuni, nominati nuovi vertici della Città degli Olivi, l'associazione che raggruppa i 33 comuni della Piana, si sono messi subito in azione per poter riuscire in qualche modo a rimediare al problema. Quale presidente del comitato esecutivo dell'Associazione, il sindaco di Melicucca, Emanuele Oliveri, ha preso in esame il fenomeno delle vacche vaganti o degli animali vaganti, allevate a costo zero, che pascolano nei fondi altrui, invadono campagne coltivate senza rispettare reticolati. I primi cittadini di Città Nova, Tauria Nova, Palmiro, Sarno, Polistana, Galatro, Seminara, Molocchio, Melicucco, Cinque Frondi, Oppidoma Mertina, San Giorgio Morgeto, Scido, Giffone, San Procopio, Melicucca, Varapodio, Serrata, Terranova, Sappominulio e Sinopoli, hanno sottoscritto un documento nel quale denunciano con forza l'insostenibilità della situazione che si è venuta a creare in questa parte del territorio per la presenza sempre più massiccia di intere mandrie di bovini vaganti. Un problema, si legge nella nota diramata dai sindaci, che si sta ampliando, creando gravi pericoli per la pubblica incolumità, producendo enormi danni alla locale economia agricola e un forte indebolimento della presenza dello Stato in queste realtà territoriali. Nel documento viene evidenziato il sempre crescente numero degli incidenti provocati dal transito in arterie densamente percorse come anche in strade dell'abitato di questi animali, peraltro di taglia molto imponente. Uno stato di cose che provoca notevole preoccupazione e un rilevante allarme sociale nelle comunità interessate dal fenomeno, le quali percepiscono l'inadeguatezza della modalità con le quali si sta affrontando la questione. Le soluzioni fin qui adottate, rileva l'Associazione Città degli Olivi, si sono dimostrate insufficienti a risolvere un problema, ma che ormai si trascina da diversi decenni, con interventi sempre sporadici e forse anche per questo poco efficaci per debellare il fenomeno. I sindaci della Piana ritengono che questa problematica debba essere assunta come prioritaria nell'agenda degli organi istituzionali preposti a garantire e tutelare la sicurezza dei cittadini e comunque ferma a convinzione dei sindaci l'indispensabilità di un totale coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali interessati ai vari livelli a partire dalle amministrazioni locali, che in questi frangenti sono la parte più colpita. Ne potranno così scaturire azioni coordinate capaci di affrontare adeguatamente e debellare questo annoso problema, anche al fine di rendere concreta e visibile la presenza dello Stato per la tutela della comunità interessate. Servono segnali forti per confermare la validità delle sinergie istituzionali, scrivono ancora i sindaci nella nota, necessarie per riaffermare i valori della legalità e del diritto in difesa dei principi di giustizia e libertà.